A cura della redazione giornalistica. Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne che, ricordiamo, trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it ma è anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. In Abruzzo nel mese di agosto 2013 sono state autorizzate più di un milione e mezzo di ore di cassa integrazione tra interventi ordinari, straordinari e in deroga. Il dato è più basso dello stesso mese dello scorso anno quando le ore di cassa integrazione furono 2,7 milioni e quanto emerge dai dati proprio sulla cassa integrazione diffusi dall'Inps. Il dato di agosto è il più basso degli ultimi 12 mesi. Il maggior numero di ore di cassa integrazione è stato autorizzato a giugno, 5,1 milioni, a gennaio 4,1 milioni e poi ancora a marzo con 3,4 milioni di ore autorizzate. 466 dipendenti da assumere di cui 299 full time, 167 part time. I primi sono una somma di 30 medici, 9 coordinatori infermieristici e 154 infermieri. Poi ci sono 90 ausiliari, un biologo, 8 tecnici di radiologia, 2 di laboratorio e 5 impiegati amministrativi. Sono questi i numeri dell'accordo trovato sul Villapini tra i responsabili della trattativa e i sindacati. La Regione Abruzzo chiederà al Governo che la linea ferroviaria Avezzano-Roccasecca venga affidata direttamente alla Regione. Lo ha annunciato l'assessore ai trasporti Gian Donato Morra dopo la riunione tenutasi questa mattina all'Aquila sul destino della linea ferroviaria. Convocata dallo stesso Morra, alla riunione hanno preso parte l'assessore lavori pubblici Di Paolo, il presidente della provincia dell'Aquila del Corvo e i consiglieri regionali D'Amico e Di Pangrazio. Torniamo a parlare di sanità perché sono 17 le guardie mediche che sono state cancellate nella nuova riorganizzazione prevista da un decreto della Regione. Divise per provincia, l'Aquila ne perde 4, Pescara 1, Chieti 7, Teramo 5. Nel periodo di monitoraggio, cioè di controllo che ha preceduto la riorganizzazione, si è scoperto che in alcune sedi sono state registrate solo 2-3 visite per turno e solo visite prescrittive, con un costo oggi ritenuto eccessivo. Gli utenti lamentano però la diminuzione di servizi nei piccoli centri. Torniamo a parlare di trasporti. Chiodi fa bene a pensare all'alta velocità ma non deve dimenticare i problemi più piccoli che interessano la rete ferroviaria. Degrado e richieste rimaste inascoltate vengono denunciate dal coordinamento ciclabili dell'Abruzzo-Teramano. La stessa Unione Europea, l'Associazione nei suoi studi, sottolinea come lo sviluppo del turismo in bici non potrà avvenire se non con un'integrazione e con mezzi di trasporto pubblici come treno ed autobus. Il presidente della quinta commissione turismo, tempo, libero, sport e cultura del comune di Chieti, Ezio di Crecchio, annuncia che venerdì prossimo l'organismo si riunirà con un unico punto all'ordine del giorno, l'assegnazione di un defibrillatore. L'iniziativa, spiega, vuole destinare un defibrillatore ad un istituto scolastico di Chieti. Il dispositivo sarà acquistato anche grazie ai fondi messi a disposizione dai membri della quinta commissione consigliare che per questo devolveranno il loro gettone di presenza. Si svolgerà per il secondo anno consecutivo a Pescara, dal 3 al 6 ottobre, il torneo delle regioni FISDIR, manifestazione di calcio 5 dedicata agli atleti con sindrome di Down. Organizzata dalla Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale, Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal Comitato Paralimpico Italiano, la manifestazione vedrà impegnate otto rappresentative regionali italiane, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Puglia e Veneto, 130 le persone coinvolte. I carabinieri della compagnia di Pescara hanno rinvenuto all'alba di oggi in via Tiburtina, in un terreno di proprietà di una società di costruzioni, un residuato bellico risalente molto probabilmente alla seconda guerra mondiale. È un proietto di 105 mm di larghezza e 55 cm di lunghezza ad alto potenziale, contenente tritolo, ma fortunatamente privo della spoletta di innesco e quindi non in grado di nuocere. È stato il proprietario del fondo ad allertare i carabinieri che, dopo aver isolato la zona, hanno rimosso con gli artificieri della Polizia di Stato l'ordigno che verrà fatto esplodere in una cava isolata. Il colonnello Paolo Piccinelli è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Pescara. Nato a Roma a 44 anni, Piccinelli, per tre anni a Palermo, prende il posto del colonnello Marcello Galanzi, che ha assunto l'incarico di capo di Stato Maggiore al comando Legione Carabinieri Abruzzo. Piccinelli è giornalista pubblicista ed è figlio del giornalista e scrittore Franco Piccinelli, vittima di un attentato delle Brigate Rosse a Torino nel 1979, in cui rimase gravemente ferito alle gambe. Celebrazione del quarto centenario dell'apparizione della Madonna della Croce in occasione dell'eccezionale ricorrenza. Sabato 14 settembre sarà presente a Pietranico sua eminenza il cardinal Raymond Leo Birke, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e arcivescovo emerito di St. Louis negli Stati Uniti. Il programma della giornata prevede alle ore 9 la partenza dal paese della processione a piedi per l'oratorio della Madonna della Croce, poi alle 11 la celebrazione della Santa Messa all'oratorio con omelia della cardinale e il ritorno alle 13.30 della processione in paese. Alle 15 infine presso la chiesa parrocchiale il cardinale riceverà e saluterà la cittadinanza, le istituzioni e le associazioni. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e Provincia si prevede cielo poco nuvoloso con temperature da 22,5 a 25 gradi e 20 deboli. Domani si prevedono nubi sparse con temperature da 22 a 30 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu. La radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz. e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it ma è su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi. A risentirci. Grazie per essere stati con noi.